Grazie Grazie Teoteocoli Grazie Grazie Allora Una domanda prima di tutto Trasmissione culturale Ma così ci è stato fatto credere E noi stiamo ingenerando questo dubbio nel paese Ma perché mi avete chiamato? Perché tu sei una persona che appartiene a tutti E chi lavora da 40 anni, 50 anni con la comicità Se è riuscito a lavorare da 50 anni Vuol dire che c'ha dentro un'anima polistrutturata Perché la verità sono Gli anni sono 60 60 Scusami, hai ragione E poi Teo, a parte che tutti ti conoscono E tutti ti amano e questo applauso Del pubblico non pagante, l'ho sottolineato Grazie Però tu hai vissuto un anno e mezzo con Franco Califano Esattamente come vi siete incontrati? Allora, io l'ho visto in un bar di Milano con un mio amico Che me l'ha presentato subito E sono stato colpito dal suo charme Era uno che piaceva proprio a vista Come a te? Sì, quasi come a me Aveva un sorriso bellissimo Valla romana, parlava tutto romano così Però questo non guastava E lì ho capito che Il mio trono del più bello di Milano Stava crollando Improvvisamente Perché lui era veramente affascinante Piaceva a tutte le donne E come siete finiti poi a vivere insieme? Perché immagino due braghette allegre come voi Nello sotto lo stesso tetto Eravate due braghette allegre Eh beh, insomma Avevamo un pezzo di legno sulla porta Per non fare entrare più di tante persone C'era l'eliminacoda all'ingresso Sì, c'era l'eliminacoda No, poi ci siamo frequentati per un po' Poi io mi sono trasferito a Roma Perché iniziavo una commedia musicale Che si chiamava Hair Quella del famoso nudo Bellissima comedia Sei mesi di prove E poi saremmo stati tutta la stagione a Sistina Ma dove eri nudo in scena in quel musical? Sì Purtroppo in una situazione non tanto agevole Cioè, cosa... Tipo? Cosa ci può essere di stare nudi davanti? Avevo due ragazzi di colore di fianco Ecco, o cambiano posto loro o cambio posto io Va beh, insomma Il semi lo conosce E andai in questa casa Che era una casa nuova Su alla collina Fleming Si scendeva per la strada Una stradina E l'ultima casa Abitava lui al secondo piano Al primo piano abitava Renzo Arbore Ah Al pian terreno abitavano i Primitids Che erano quattro inglesi Con una giagua rossa Con i vetri neri Sempre ubriacchi Sopra abitava Massimo Bernardi Che aveva un locale che si chiama Vum Vum Che andava alla grandissima in quel tempo Poi una valletta televisione E Franco dice Oh, quasi via la polizia No, perché della valletta non ti ricordi il nome? Scusa Ma te l'ha secoricata? Eh? Te l'ha secoricata la valletta del quarto piano? Sì E non si ricorda il nome Si ricorda il nome di Massimo Bernardi Che aveva il Vum Vum E non si ricordi con cui facevi Vum Vum tu Mi sembra di capire Vabbè, però insomma Forse non l'hai detto perché sei un gentiluomo Perché sono un gentiluomo Perché adesso avrai Si ricorda ragazzi Se ancora in giro avrà 90 anni Quindi non vorrei rovinargli la reputazione Va bene, ho quasi 80 io insomma Guarda, incredibile Io non ci posso credere che questa età Tu lo sai? Io sono del 45, ho 78 anni Ma Basta fare E lo auguro a tutti Basta fare una vita sregolata Stare in giro tutte le notti A lavorare soprattutto Frequentare molte ragazze se è possibile Ma che insegnamento è? Scusami qua Che massimi di vita sono? Non fare sport E fumare anche vuoi dire? E fumare anche vuoi aggiungere? Fumate se volete Perché voi fumavate anche delle sigarette un po' Sigarette? Eh, quelle frizzanti Quelle corrette No, no, no Quelle sciaccherate Le canne, Teo Fumavate le canne, l'ho letto, lo so Non... Cosa c'è? Allora io Onestamente Non so di cosa stai parlando E guarda Sei veramente credibile, guarda Onesto, proprio per onestamente Ti faccio... Però non si può far pugisare Alle canne Certo che non si può Ma... Eh, vabbè... Ce n'hai una E quello è spaccio, non è pubblicità, scusa Stai vi raccontando la nascita Abbiamo passato la più bella... La più bella serata della nostra vita Abbiamo passata nel 1970 Io lavoravo in Hair Ero il protagonista Ma siccome rompevo i coglioni a tutti Mi hanno declassato Come al solito E sono diventato uno della tribù Uno... Però vicino... Dall'ensemble 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 Ma c'era Renato Zero vicino a me La Bertè... C'erano tanti personaggi molto forti, no? Ma Renato vuole andare davanti Cosa stai dicendo, Teo? Cosa stai dicendo? Se non capisci fa niente, dai Non è importante Ciao Renato! Ciao Ti amiamo! Questo mio pubblico saluta Renato Zero! Noi lo amiamo! Insomma... Diciamo che pur Facendo parte della tribù Si chiamava così Il gruppo dei ragazzi La tribù Non ero protagonista Però Ebbe un successo Non indifferente Due donne Si avvicinarono Una era Marisa Mel Bellissima Un'attrice conosciuta Che mi faceva un po' il filo E l'altra era Verusca Verusca La modella Che ha appena finito il film Blow Up Di Antonioni Quindi era famosa in tutto il mondo La presi e la portai via in moto No Le chiedesti di venire con te E lei salì sulla moto con te Vedi come suona diverso Culturalmente si Ma per un animale come me Va bene come l'ho detto io Arrivo a casa Arrivo a casa Che ti ha rubato in casa Dico ma chi ti ha rubato in casa Dico ma chi ti ha rubato in casa E chi Chi non lo so Non mi hanno rubato C'è un orologio bellissimo Mi hanno rubato Scusa io non sono da solo C'è una ragazza E fa l'entrata eh Ammassa Verusca Hai portato Verusca a casa mia Ti rendi conto Si era dimenticato del furto Verusca E' proprio Era innamorato di questa donna Alta come me Magrissima Cappelli lisci proprio Sulle guance Era bellissima E infatti quando sono andato su Anche io era bellissimo E quando sono andato su in casa Che Ho suonato aperto Franco Califo E' passata Verusca Lui l'ha guardata Poi mi ha guardato a me Dice Oh che hai portato il pennello Perché era magra E' alto L'aveva azzeccato in pieno E allora Abbiamo passato la notte del 1970 E abbiamo visto assieme la partita Italia-Germania Ma chi? Tu Verusca e Califano? No Verusca non c'era più Se n'era andata Quasi un anno dopo Ah dopo un anno Beh la cronologia Io a un posto di te Ti dico quello che ho in mente Se vuoi Se non me vado Sai perché io sono caro e buono Ma poi No no ma Anche se sei molto paziente Si vede comunque No no e quindi Ovviamente c'era Un distacco temporale Di cui colpevolmente Ho perso di vista Edità E' difficile spiegare i tempi Perché sono passati anche 50 anni E i ricordi sono tutti ammassati Nella tua mente Sono ammassati Se io penso ai criminal No come si chiamava il gruppo I Primitives I Primitives Ma non è che gli hanno ciulato in casa i primitives a Renzo Alvaro Ma chi è stato? Abbiamo avuto il dubbio È stato mal Anche perché loro erano invisibili In quanto avevano una Jaguar rossa a fuoco Con i vetri nerissimi Quindi non si sapeva se erano in macchina o erano da un'altra parte Erano dei fantasmi Anche Ballo fa così Allora ci mettiamo a vedere la partita Questa ultima casa con tutti i personaggi che ti ho detto Gli inquilini Quella sera era vuota Ce l'avevamo solo io e il califo Sotto c'era una scarpata Come si può dire in gergo più Una scarpata Una discesa Un pendio Una scivolata verso il basso Siamo al mare Una... come l'hai chiamata tu? Scarpata Una voragine Un dirupo Adesso c'ha ragione Ballo Dove l'abbiamo finita? Voi pensate a suonare per favore Che qua siamo già in due E quindi questo dirupo Portava a una... Uno spiazzo Una... Tutto buio Non si vedeva niente Noi eravamo proprio su questo dirupo E se... Abbiamo capito e abbiamo saputo Che lì c'erano le scuderie Dei fratelli di Inzeo Gino e Pino di Inzeo Non si chiamavano così ma non mi ricordo il nome E... Comincia sta partita Noi tranquilli così sul divano Guardà Comincia il primo gol dell'Italia Poi segna la Germania Allora lì abbiamo cominciato a entrare e uscire In questo balconcino che c'era fuori dall'appartamento Ma sotto era deserto I mortacci vostri Per favore a noi Da soli Ma a chi? A nessuno Ai primitive Ma quelli lì non so se c'erano La macchina c'era Anche la macchina c'era o non c'era E quindi siamo andati avanti tutta la notte A entrare e uscire E... Eramo solo noi due E ci siamo visti a Milano In un ristorante Io nel frattempo ero stato arrestato Perché ero lenitente alla leva Non mi ero mai presentato a militare Avevo 28 anni e... E... Al derby Al derby club di Milano Ma ti hanno chiamato sicuramente più di una volta in quei dieci anni Non lo so, io non rispondevo a niente Abitavo alle case popolari Non arrivava a niente Ti arrivavano le cartoline Tu pensavi che fossero saluti dalle colline Sì, sì Mia mamma leggeva ma non capiva E... Insomma una sera al derby C'era il grande Gianni Magni dei Guffi Te li ricordi tu i Guffi? Il grande Gianni Magni era un mimo straordinario Parlava con un poliziotto E diceva, guarda io ho tre figli Lavoro qui al derby Guadagno quello che godagno E sono capofamiglia Qui mi ha mandato la lettera per fare militare Come faccio io a lasciare i miei figli, mia moglie E questo lavoro qua non c'ho io una lira Ecco l'ha detto Vabbè ci penso io Faccia qualcosa facciamo Allora io mi sono avvicinato E ho detto io non ho tre figli Però... Non ho mai risposto alle lettere È colpa mia eh Ma sono pronto a pagarne le conseguenze Però se tu mi metti a posto magari capofamiglia Così c'era mia madre sola Non era vedova Se l'era andato mio padre era rimasta sola E la mantenevo io Era una ragione Ma ho detto vabbè ci penso io così Il giorno dopo sono andati i carabinieri Mi hanno portato in caserma subito Hai chiesto la persona A Chieti A Chieti In caserma A Chieti Comunque Qual è la tua canzone preferita di Franco Califano? Lei è la più famosa E non ho detto gioia Ma noia 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 Quello diceva con cattiveria Perché si rompeva le palle lui Quindi a volte Teo Teocoli Teo Teocoli grazie Brava Grazie grazie Teo Teocoli